Ricordiamo che si corre sul miglio in pista piccola e sono in 9 i cavalli al via, favorito Kelly in sé. Partiti in questo momento i cavalli della quinta del pomeriggio. Subito veloce dall'interno Kenzo Sim, al suo esterno si propone He-Rapper, intenzionato però ad adeguarsi. In terza posizione troviamo il favorito Kelly in sé che si trascina in quarta a Sir Lawrence. Questi quattro in diagonale a precedere in quinta posizione Blue Shamrock, riconoscibile dalla giubba celeste, al cui esterno galoppa Pellicano Gioco, la giubba bianca ed arancio. A completare il quadro troviamo Hold Me Close a Coniton, poi ancora Panther Cat. E questo è lo schieramento quando i cavalli vanno ad affrontare la prima parte della curva del miglio in pista piccola, sempre Kenzo Sim a dettare il ritmo, He-Rapper che gli si è posizionato alla sua tre quarti. In terza posizione troviamo ancora Sir Lawrence. In quarta c'è Kelly in sé, in quinta all'interno Blue Shamrock a precedere Pellicano Gioco ed ancora a Coniton, Hold Me Close e Panther Cat. Siamo all'imbocco della dirittura d'arrivo, schema che non è variato, sempre Kenzo Sim davanti nei confronti di He-Rapper. Comincia la progressione al suo esterno anche Sir Lawrence. Blue Shamrock deve trovare lo spazio, poi prova a rinvenire anche a Coniton che va a percorsi più interna. All'esterno di tutti si presenta in maniera confidenziale anche Pellicano Gioco e al suo interno Kelly in sé. All'esterno di tutti anche Panther Cat con gli ultimi 400 metri da percorre. Blue Shamrock che va all'attacco di He-Rapper. All'esterno si presenta subito forte Pellicano Gioco. Ancora più all'esterno anche Panther Cat e lo stesso Hold Me Close con a Coniton che ha respinto il primo attacco di Pellicano Gioco che ci riprova con a Coniton che sfugge all'attacco di Pellicano e vince nei confronti dello stesso Pellicano e per il terzo Panther Cat. Bella corsa che ha vissuto di un ritmo davvero incessante dal primo all'ultimo metro. Alla fine l'ha risolta a Coniton che gira che ti rigira. Stava cercando la valorizzazione riuscita ad ottenerla con Germano Marcelli in sella. Il training è quello di Maglia Salvioni e Riccardo Menichetti. 5 al primo posto battuto ancora una volta Pellicano Gioco rimasto in quota per il secondo. E al terzo posto buona la prestazione anche di Panther Cat. Quindi numericamente l'ordine d'arriva è 5-2-8. È tutto per la quinta corsa da Capannelle. Grazie. 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 Grazie.